Siamo molto contenti di questa prima prova del campionato di Serie A, qui a Prato è andato molto bene, sia dal corpo libero che dal nastro, ci sono stati piccolissimi errori, piccolissime imprecisioni, non vediamo l'ora di andare avanti sempre al meglio, di continuare così e speriamo che vada tutto bene e continui ad andare così. Siamo molto contenti del risultato di questa prova, non ce la spiettavamo in secondo posto e speriamo che le altre prove andranno altrettanto bene e rinfermare il nostro posto della posizione. Ringraziamo tutti quanti e speriamo di contentarci. Con questa gara rinizia la Serie A quest'anno, dove tutte le società si augurano di fare al meglio tutte le tappe. Questa tappa non è andata come speravamo, noi ci abbiamo lavorato ma è andata così. Questo è lo sport, ci sono alti e bassi, ce li faremo sicuramente alla prossima prova. Grazie. Grazie.